Ciao a tutti, sono tornata dopo tanto tempo con un nuovo video. Allora, questa volta ho voluto mostrarvi come ho realizzato la parrucca di Harley Quinn. Ci serviranno ovviamente una parrucca bionda, una spazzola degli elastici e dei colori acrilici, uno blu e uno rosso. Come prima cosa vado a pettinare la parrucca, poi a metterla in testa a mia figlia che servirà proprio a lei e vado a dividere i capelli della parrucca a metà e poi li attacco con degli elastici. Ho riempito il lavandino di acqua e ho messo dell'acrilico rosso. Ho mescolato e ho tuffato i capelli nell'acqua. Però questo esperimento non è riuscito perché i capelli rossi si sono leggermente colorati, i capelli in blu invece non si sono colorati per niente. Quindi poi sono andata sulla mia scrivania e ho messo l'acrilico direttamente sui capelli e con il pennello ho spennellato. Ho fatto la stessa cosa con l'acrilico blu dall'altra parte. Ho lasciato asciugare ed ecco qua la parrucca pronta. E il tutorial è finito e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!